allora poche parole ragazzi tirate fuori una sigaretta il resto delle 19 sigarette ok ragazzi questa è una tecnica che ho ideato io per incominciare a smettere di fumare questa è una tecnica che serve per gli accaniti fumatori che fumano pacchetti pacchetti di sigarette così vi passerà la voglia di spendere 5 euro e 30 per una singola sigaretta vedrete che prima poi smetterete di comprarle e piano piano smetterete anche di fumare quelluna sigaretta che tirate fuori quindi poche parole prevenire anche la salute finché poi gettate anche questa sigaretta singola dal vostro corpo e smetterete completamente di fumare ragazzi quindi questa tecnica che ho ideato io per gli accaniti fumatori e questa comprate un pacchetto di sigarette se non ce la fate ancora smettere ok ne tirate fuori una ve ne fumate solo una e il resto del latte 19 sigarette le buttate ok ragazzi vedrete che con il tempo vi passerà la voglia di pagare 5 euro e 30 una singola sigaretta let's go baby let's go baby let's go baby